Non è ancora il momento di stappare la bottiglia anche perché l'ultima giornata può riservare tante insidie. Lo champagne in ogni caso può trovare posto al fresco per il Taranto che vince il derby con il Cerignola e conserva una lunghezza di vantaggio sul Picerno. Quando mancano 90 minuti al termine di questo campionato, sarà decisiva la trasferta di domenica prossima. A Venosa contro il Lavello finisce 4-2 lo Iacovone davanti a un migliaio di spettatori in favore dei padroni di casa. Gli offantini non riescono a compiere l'impresa nonostante una reazione d'orgoglio, ma il voto alla propria stagione resta decisamente alto. Tutta la differenza del mondo nell'economia complessiva della contesa la fa il primo quarto d'ora devastante del Taranto che ci mette meno di un minuto per passare in vantaggio. Il destro, pazzesco, da fuori aree di Marsili, non lascia scampo al giovane Fares. Gol bellissimo. Mette subito la freccia la squadra di Giuseppe La Terza che raddoppia poco dopo. Sant'Arpia crossa, Nicolas Rizzo fa centro in avvitamento ed è 2-0. Lo Ionice, su punizione dalla parte opposta, non impegna più di tanto Cekoschi. Ionici scatenati, Ionici che addirittura triplicano le marcature prima del quarto d'ora, fa tutto. Diabì che completa l'opera con il rassoterra vincente del 3-0. Vittoria in ghiaccio, solo apparentemente perché il Cerignola la riapre subito, neanche a dirlo con Bomber Giancarlo Balcore. Gol bellissimo. Il ventesimo stagionale per il capocannoniere del Girone H. Si fa male, si letti negli ospiti dentro Ciafardini. Diventano sei gli inoresi in campo per il giallo-blu. Ultimo quarto d'ora, tiro cross di Sant'Arpia sul fondo, rasoiata di Versenti, bloccata da Fares e ancora a destro di Sant'Arpia dopo irruzione in aria. In preciso, 3-1. Taranto dunque all'intervallo. La ripressa si apre con il gol che riporta in scia il Cerignola. Cekoski è miracoloso su De Cristofaro, ma nulla può sulla successiva conclusione di Lo Iodice. Ospiti a meno uno, Malcore poco dopo ha l'occasione addirittura per il claboroso pareggio, ma non riesce a coordinarsi in aria come avrebbe voluto. Pochi minuti dopo, la contesa prende definitivamente la direzione favorevole ai padroni di casa, trattenuta in aria di De Cristofaro per l'arbitro del rigore. Dal dischetto, Nicolas Rizzo fa doppietta personale 4-2 per gli Ionici. Botta psicologica non indifferente questa volta per il Cerignola. Cekoski blocca la punizione di Lo Iodice poco dopo l'ora di gioco. Poi più nulla, sino agli ultimi dieci minuti, quando il portiere dei Tarantini respinge sulla botta di Aschicca. Nel finale, Marsili su punizione, chiama la deviazione in corner. Fares finisce così, 4-2, vince il Taranto, che conferma sia la vetta che un punto di vantaggio sul Picerno. Domenica, il gran finale sul campo dell'Avello, in cui non saranno ammessi passi falsi per gli Ionici. Il Cerignola paga un approccio da dimenticare, ma la stagione che si concluderà domenica al Monterissi contro il Nardò sarà comunque da applausi. Per Michele Pazienza e i suoi ragazzi.